Sono Massimiliano Sandri, il presidente della Mario Cerutti, che è un'azienda vigevanese, da 35 anni produce calzature di alta gamma da donna. Vi presentiamo oggi la collezione Autunno-Inverno 2013. Vi voglio presentare questo tronchetto in camoscio nuvola, che ha la particolarità di avere sul tacco una gabbia in metallo che abbiamo studiato in esclusiva per questa collezione, con un disegno aramaico. La presentiamo sia in questa versione solo metallo che con delle pietre nere. Denota la particolarità della lavorazione, che è estremamente complessa, molto delicato e fatto completamente a mano. Il secondo oggetto che vi voglio presentare oggi è questo stivale da pioggia in nappa nera, che ha la particolarità di avere un fondo perfetto per la neve e per la pioggia. Ma poi la particolarità è avere questa lavorazione sul fianco esterno, con una cucitura a filo brillantato, completamente su un disegno da noi ideato, capitonato, e con gli inserti di tutte queste pietre nere, sia a taglio rettangolare che a taglio ovale, che lo rendono molto prezioso. Questo tipo di lavorazione è molto ricercata dalla nostra clientela dell'est Europa, in particolar modo russa, ucraina e kazaka, che ricerca su Made in Italy lavorazioni molto complicate ed opulente.